Quasi 300 auto e moto d'epoca in una domenica baciata dal sole. E' così tornato l'aluno città di Arezzo organizzato da CNA quest'anno alla sua undicesima edizione. Siamo riusciti e abbiamo avuto la fortuna di una giornata meravigliosa, veramente, e la partecipazione è stata sopra le aspettative. La carovana è partita da Arezzo ed ha percorso le vie della città in direzione Monte San Savino, poi pranzo a Ruscello ed infine ritorno in Duomo, dove erano presenti anche le maschere del carnevale dei figli di Bocco. Il ricavato dell'iniziativa, come sempre, sarà devoluto in beneficenza. Un bel giro organizzato bene, puntuali, siamo in orario perfettamente, sarà un branco di gente, sarà tantissimi, è un grande successo. Un'iniziativa quest'anno anche nel ricordo di Piero Franchini, scomparso lo scorso marzo.